Ancora una volta, ciao ragazzi, bentornati, oh no, va bene, oggi stavo qui, con una musichina, mamma mia, allora, oggi, visto che, visto che, oggi, visto che, no, oggi, però, questo sabato, visto che, non, non questo l'altro, non avevo caricato la live, purtroppo non sarà una live, perché, perché ci vuole troppo lavoro, cioè, un'ora, per caricare il titolo, solo per caricare il titolo ci mette un'ora, un'ora si deve, io non so, ci mette un'ora, Comunque, comunque, non ho fatto anche lo speciale, comunque, o domani, o poi vedrò che c'era lo speciale, comunque, comunque, per un po' di giorni non potrò fare video, visto che, visto che sto avendo delle urgenze giganti, E, quindi, purtroppo non posso fare video molto spesso, ogni tanto, ogni tanto, li, li, cambio, cioè, li faccio, ecco, se, attivate la campanellina, non dovete stare sempre su YouTube, attivate la campanellina, vi arriverà la notifica, meno male che c'è il vostro grey briole che c'è con voi comunque lo speciale verrà o domani comunque da poco ho festeggiato il compleanno e stasera o stasera domani non so non so quando caricherò il video o domani sera per voi domani sera per me per me no perché domani sera è già passato certamente aspetta domani sera no aspetta domani per me non è passato sono scemo allora quindi o domenica o un altro giorno o sabato no sabato carico questo video poi o domenica o un altro giorno farò un da like poi non farò tanti video perché sto avendo delle grandi james comunque io ho compiuto anche da poco il mio compleanno e quindi stasera domani sera ieri sera non so quando quello che stavo parlando prima farò il video comunque da poco ho festeggiato il compleanno e questa sera per me è domani sera perché credo che il video lo caricherò sabato e io lo sto registrando venerdì quindi per me è domani sera per voi è stasera se lo carico sabato se lo carico sabato allora quindi quindi stasera ieri sera domani sera per voi ci sarà il giorno del compleanno a un ristorante dove si chiamerà brigante e al brigante si chiama dove io incontrerò anche una youtuber che è la youtuber che avete visto al video dell'altra volta dove c'era la scarmata del cuore ecco e quindi vabbè noi siamo qua per il video facciamo il video mica dobbiamo parlare di queste cose punto e basta oh bene voi cominciamo allora voi non avete mai visto questo gioco sul mio canale e quindi voi chiedereste ma Gabriel questo voi mi chiamate Gabriel sicuro sicuro vanno su quello che è Gabriel chiamatemi come si doveva figino quindi chiamatemi soprattutto nei commenti scrivetemi nei commenti se se potrò se potrò fare anche un video di di questa di questa serie potrò fare una serie di questi video comunque questo è un gioco di una gara di moto dove noi dovremmo vincere ci saranno rari livelli vedete ci saranno dei livelli dei livelli dove noi dovremmo dovremmo vincere cominciamo il primo allora non posso fare niente perché non c'è i soldi ok via allora io sono al sesto posto cominciamo mi chiamo Gabriel il gamer via 200 km orari no non è vero 130 e qualcosa km orari io uccido sai l'ho fatto ci si fa ecco se non l'ho ucciso però l'ho mandato fuori dalla pista è uguale non c'entra niente se non arrivo però primo la gara si fa o almeno tre volte perché sennò perché sennò poi vi scocciate voi e mi scoccio anche io con lo scotch e quindi e quindi via dai 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 no ho perso ho perso ho perso ho perso ho perso no 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 vuole ho perso ma te hai possibile vabbè solo quest'Avola via ste noti perfetto primo posto sono arrivato delle monete grazie secondo livello facciamo questo, via forza via, ecco sono sempre al sesto posto, mamma mia via, 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 via secondo livello sesto posto, via a 180 km orari, no 170 km fatti prendere vieni, vieni ci stiamo sfidando io e lui, ecco volevo più che lo prendevo, ma vabbè sono prima oh mio dio sono primo però ancora c'è tanta strada da fare vabbè adesso che siamo a Lizio non è tantissima la strada quindi vabbè via, via, via un mulino un altro mulino lo vedete lo vedete là comunque c'è anche la mappa dei come si chiama iscritti ditemi come si chiama la mappa la mappa la mappa della pista mappa della pista ho già detto io sono scemo sono Giorgia sono una donna mamma mia niente è impossibile allora questa pubblicità mamma mia abbassiamo il volume ok allora il primo sono arrivato terza roba terza cosa terza mappa terza mappa via 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 siamo partiti oh mio dio oh mio dio siamo partiti siamo partiti dai 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 oh ti uccido attraverso ho capito quale è questa devi stare per forza primo altrimenti altrimenti perdi anche se arrivi al traguardo non c'entra devi per forza essere primo anche non c'entra se arrivi secondo se arrivi solo primo perdi infatti adesso oh sto per perdere sto per perdere oh no 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 adesso invece si eh 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 dai 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 adesso no eh via forza forza mi mi whip eh oh no no sto per perdere sto per perdere 20 secondi via 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 dai che devo essere per forza primo dai 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 forza vedete adesso sono arrivato al traguardo perché il numero non c'entra niente ma non c'entra niente devi essere primo altrimenti perdi quindi via adesso perdo ho perso praticamente ho perso cari iscritti miei eeeh ho perso volvo vi dovrei dare un nome perchè non vi piace chiamarmi chiamarmi chiam.. chiamarvi ahhh ho finito ho finito all'ultimo colpo ho vinto no spero vabbè eh vediamo ho vinto sono il migliore chiamatemi chiamatemi come voi volete chiamare Gabriel ahia mi sono fatto male alla mano da solo oh delle molte grazie miglioriamoci questo e facciamo no cosa ho fatto no non voglio riparare la gara oh non la voglio rifare la gara questa voglio fare questa non la posso fare perchè non c'è soldi via 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 questo round e poi basta perchè sennò il video dura troppo lungo so che vi state già annoiando soprattutto per il discorso che ho fatto prima e quindi non non credo che come si dice non so parlare comunque non credo che cioè vi annoiereste visto ho parlato così tanto tutto il tempo del video ho parlato troppo per il discorso che ho fatto se succederanno delle robe non farò mai più dei discorsi perchè sennò per me il gioco dura troppo poco ma per voi il video dura tanto capite cioè per me adesso è come che l'ho appena iniziato il gioco quindi non so neanche se sono passati dieci minuti vabbè comunque dai 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 il traguardo devo raggiungere così almeno finisco la partita e finisco il video poi capito allora dai 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 ci sono quasi ci sono quasi almeno fatemi raggiungere questo qua ecco questo tipo no io e venite via 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 corri non tu verde oddio arancione che tu sei uno scemo nessuno ti vuole io non voglio il verde neanche se mi pagassero io voglio solo il rosso e il blu però sono arancione ecco eeeh ose pubblicità eeeh ho il testo posto ragazzi il video di oggi finisce qua iscrivetevi al canale attivate la campanellina lasciate un bel like e commentate qua sotto cosa potrò fare la prossima volta anche se potrò fare una serie di questa di queste di queste robe quindi iscrivetevi al canale trovate la campanellina bla 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 lasciate like eeeh per questo video di oggi è tutto e da Gabriel gamer eeeh e basta au ooooh ooooh